Ciao ragazzi, siamo finalmente giunti... Sto guardando la webcam sbagliata Siamo finalmente giunti al video di Omegle come speciale 4... Aia! Ho voluto farlo in occasione della Shake Remix Challenge che mi ha lanciato Giulia Penna che mi ha sfidato a remixare il mio rapporto con voi Che cosa vuol dire? Vuol dire che di solito voi vi connettete a Omegle per cercare me Oggi io mi connetto a Omegle per cercare voi Nel senso che io metto la parola chiave che voi mi avete passato per cercarevi su Omegle Nel caso vi stesse chiedendo cos'è la Shake Remix Challenge E' una challenge che prevede di fare un qualcosa tipo Omegle Però fatto in un modo diverso, tipo al contrario In questo caso sono io che vengo a cercare voi In pieno stile Shake Remix Prima di cominciare volevo soltanto dirvi che se volete scattarvi un selfie remix come quelli che avete visto su Instagram mio, di Giulia o di altri creators Trovate il link in descrizione per fare il vostro selfie personalizzato E detto questo passiamo ad Omegle Ma perché vi fate tutti sti... Io veramente giocare a un horror fa prendere meno infarti No, 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 non è possibile Non hai fatto forte il cuore, non hai... Non puoi capire! Non puoi capire! Va bene! Ciao come suoneria! Nietersi in Italia! Stare le esce come fossi un politico Raga, grazie di essere stati con me Io vi mando un bacio Ti ringrazio, un bacio! Ci vediamo! Ciao! Ciao belle! Maxo! Posso fare la foto? No! Dai! Sto scherzando, sì, certo E puoi fare la foto Come stai? Bene, bene, fra come stai te? Da posto è mezz'ora che ti cerco Almeno ti ho visto in webcam Di dove sei? Genova Quando è che vieni a Genova? A Genova vengo molto presto, te lo giuro Come sei? Henry, tu sei un mago, Henry Sei un mago? Sei un mago, sei fortissimo, Henry Ammazza, Voldemort Tutti ammazza C'è un altro C'è, siete in due, Henry Sei doppiato Sto incantesimo non lo sapevo Tutto bene? Tutto bene, a te? Bene, bene Da quant'è che mi state cercando, raga? Dalle che sei in punto Volevo farti vedere una cosa No, tu che ti lamenti dei tuoi capelli No, guardi i miei, guarda Fabbè Cosa ho visto, fra? Che shampoo usi? Ma no, aspetta, guarda Anche io si ho messo male Però non così Siamo un po' uguali Come vi chiamate, raga? Io, Michele e lui, Luca Ciao, Michele, ciao, Luca Dove siete? Puglia Puglia, esatto Sapevo, dall'accento Beccate Grazie a te che ci fai ridere ogni giorno Senza di voi non sarei neanche arrivato qua Figuriamoci Cioè, grazie mille a voi Però ogni volta mi dite queste robe Mi sciolgo, tipo, la ragazza timida Siamo contentissimi di averti trovato Anche io di aver trovato voi Ve lo giuro, raga, davvero No, perché mi hai schippato? Ciao Mi hanno schippato prima Mi hanno schippato Sono uscito, mi hanno schippato E che ne so Non mi ha detto Mi hanno schippato subito Ciao, come stai? Bene, e tu? Io tutto, tutto bene Come ti è andata la giornata? Ho studiato e... Che cosa studi? Lingua, lingua Università Ah, l'università Ok, di dove sei? Sicilia, però sto appeso Ah, Sicilia, però sto appeso Ok, il tuo numero di telefono? Oddio Ma vivete nel castello di Dracula? Ma una luce, accendetela Che vabbè, che bisogna risparmiare Però almeno la luce Manco se mi impegno C'ho sta luminosità da schifo Ma com'è possibile? No Pensate se t'appariva Justin Bieber Che è il casino Chi è il papà? Il babbo, eh? Salutatelo Ciao, ciao Ti saluta Fabi G Chi è? Fabi G Ma come chi è, signor? Oh Ma ci aggiorniamo qua La cosa che ti voglio dire È che capisci che nella vita Ci sono ingiustizie Nel senso che Tu non puoi Non puoi Capisci, non puoi C'è C'è chi ha troppo Eh Però i capelli Sono quelli, eh Ah beh, i capelli Forse sei messo peggio pure tu Non lo so Allora Da quel punto di vista Signor Ostuni, mannaggia Due ore che la cerco Tu sai il mio cognome Io non so come ti chiami Quindi famo le presentazioni Lorenzo Piacere Michele Piacere Michele Sono un ragazzo giovane Che la stima molto Lei è molto bravo ragazzo Grazie Molto gentile, molto gentile caro E lei non le dispiace E volevo sottoporla a un test A un test? Mi, 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 mi diga So che è un videogiocatore molto acuto Volevo sottoporle qualche canzone di videogiochi Qualche tema Vada, vada La indovino con una Super Mario Questa è la prima Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo La seconda O meno conosciuta Tetris E dai Vediamo Questa Videogioco stupendo Se lo conosce Beh Skyrim Vada così Vada così signore L'ultima che ho da fare nel test Non è di un videogioco Ma è di un anime Dai, dai Vado Sei fantastico Bellissimo Mi faccio vedere Le mostro il segno Il simbolo Glielo mostro E' il tema di L Sei fantastico Fra Sei fantastico Bravissimo Su Omigol Non ho mai registrato una scena così figa In tutti i video di Omigol che ho fatto Mai Esatto E' caduto l'assendino Quasi rotto lo stendino Sappi che ti voglio un bene dell'anima Ti seguo da sempre Grazie zio Prima che te ne vai Devi fare una cosa Mi devi lasciare la mail e il numero Perché Per due motivi Uno perché ti chiedo se posso metterti nel video E due perché Devi diventare mio amico dopo questo Cioè È l'amato Ti prego non farmi così male Fratello Queste emozioni che ti escono Greta Ah no Mi sembravi Greta Menchi Ciao Sono Gaia Volevo solo farti notare Dimmi Avevamo fatto la prima foto La polaroide Che bella firma che ho Esatto Ma guarda la foto più che altro È bianca Beh Perché io emano lucemia Ma poi Lorenzo ci ha fatto passare Ci ha fatto fare Ah ok Bella Guarda che bel figo lì Come mai avete tutti sta reaction incredibile Come se avesse visto Un alieno Vabbè che i miei capelli sono messi male Però non così tanto Capito Hai una bellissima voce Mi piace quando parli Però fammi l'ok se stai bene Che almeno so che sto parlando Ok stai bene Famiglie Ho incontrato con DJ Allora parli E parla no Io pensavo non avessi il micro Giorgia Però sei vero o non sei vero Fammi vedere il tatuaggio Oddio È un'ora e mezza Che ti stiamo cercando Grazie Sì bro Parla tesoro Stiamo molto calmi eh Stiamo molto calmi Falle piana tisana Alla rossa qua Oh la rossa Guarda che sono più grandi di te Ah beh scusa Non mi mette in soggezione eh Siamo viste follonica Guarda un po' Davvero? Ammazza Sono alto io Facciamo la foto Aspetta aspetta Famiglia già la cover Poi Dio che ho la donna E disse vai che compi che la vita Bravo Esatto E sei una ragazza E la metti sta cover Pensando Ma è vero però Noi siamo una grandissima Lo so che è vero Non me lo devi spiegare Tu vuoi mettere in mutande? Piano con le richieste qua eh 50 euro E lo faccio Bella Ma perché mi schifano tutti Calmo Non sei davvero No fra Somigli un po' a Charlie Poof Hai anche il microfono così esatto Io sono un youtuber vero Esatto Io invece il microfono ancora lo appoggio sul bancone Sono un youtuber ancora indietro Vuoi fare una foto insieme? Ce l'hai fra? Io vedo una maschera di viper vendemmia là dietro Prendi prendila prendila Ma c'è qualcuno sul divano Ciao salve C'era qualcuno sul divano Sì l'avevo visto Madonna come sei spavaldo con sta maschera Questa è la fase 1 Poi la seconda fase è realizzare che sono davvero io Ed è l'urletto Esattamente così Questo è proprio un maglione È inverno E devo star comodo e al caldo Esatto Come stai? Sette anni Sette anni Che ti seguo Grande Io faccio video solo da 6 però È un po' strano Però va bene No non è vero Dal 2011 Eh sarà il 2017 Sì Fa 6 Ta ta Sì vabbè Tu mi sei stato vicino anche quando non c'erano altre persone Volevo davvero dirti grazie per questo Figurati Antonia Giamila Giamila piacere Giamila Lorenzo piacere Guarda se mi vuoi chiamare anche per altre cose Non lo so io so sempre disponibili 8 centibili Giamila Non so quanti anni hai Ho paura Di avere le manette ai polsi 17 17 Eh sono da manette ai polsi Quindi Posso fare la foto? Eh come no ma stai scherzato Moltissimamente Ma va figura Sono qua Vai Fatto Un like in diretta 3 2 1 Boom Grazie la riguarda Prego Quindi ragazzi Questo era lo speciale suo Miggle Spero che il video vi sia piaciuto Prima di concludere volevo lanciare la sfida ai mates Per la Shake Remix Challenge Che dovranno remixare Un momento della loro giornata In modo diverso Ad esempio fare colazione Con zero sprechi Senza sprecare nulla Spero come al solito che il video vi sia piaciuto Come se vi piaciuto Se vi piaciuto Mi piace anche Se vi piaciuto Se vi iscrivetevi E noi ci vediamo All'un prossimo video Bella ragazzi Ciao